Si svolgerà a Cassino da martedì 4 fino a sabato 8 settembre la festa del Partito Democratico all'interno dell'area del Parco Cittadino Baden-Powell organizzata dalla locale Segreteria Cittadina. In programma un mix di buon cibo, ottima musica, intrattenimento ed incontri politici con l'obiettivo di sapere ascoltare quello che la città di Cassino chiede non solo durante i giorni di campagna elettorale ma ogni giorno dell'anno. Una bella sfida ci attende, sottolinea Marino Fardelli e ne siamo consapevoli visto il clima politico nazionale e locale ma non demordiamo e costruiamo un percorso cittadino credibile e non a chiacchiere. Sin da ora intendiamo ringraziare i tanti volontari, iscritti e simpatizzanti che con il loro fondamentale impegno renderanno possibile lo svolgimento della festa. Per 5 giorni sarà possibile trovare musica, gastronomia e incontri politici con ospiti di caratura nazionale, circoli, trasporti, sport e disabilità, sanità, giovani, l'impegno delle donne in politica sono i momenti inclusi nel programma della festa. Nell'occasione interverrà Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e vicepresidente del Lanci nazionale che presenterà il suo libro Primo cittadino perché l'Italia può ripartire dai sindaci, edito da Baldini e Castoldi che racconterà la propria testimonianza ma anche quelle di altri sindaci tra i più importanti contenute nel volume. Una importante riflessione sulla centralità del ruolo del sindaco visto dai cittadini come l'uomo delle istituzioni per antonomasia come colui che può cambiare le sorti di una città. Ciao, ci vediamo alla festa dell'unità di Cassino, tra le tante cose parleremo anche del mio libro Primo cittadino che è in qualche modo un contributo che i sindaci vogliono dare per la ripartenza del paese ovviamente per la ripartenza del PD. A presto! A dare la sua adessione anche il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi. Ci vediamo a settembre a Cassino alla festa del PD, sarà l'occasione per stare insieme, per parlare di politica della difficoltà di amministrare le città, di amministrare una città come la mia, Marcianise vi racconterò quali sono i problemi di un sindaco ogni giorno avremo la possibilità di scambarci opinioni, di raccogliere suggerimenti, di stare appunto insieme sarà un'ottima occasione per parlare di politica ci vediamo allora a settembre a Cassino alla festa del PD